Senta direttore, lei ieri nella diretta del sindaco Ginelli a De Poarezzo è sotto controllo, che vuol dire? Vuol dire che il numero dei casi che registriamo quotidianamente non è in linea con una progressione lenta del contagio. Quando si aspetta il picco? Il picco si aspettava già in questo fine settimana, però le misure di protezione e di prevenzione che sono state attuate stanno rallentando il vero e proprio picco. L'ospedale in questo momento ospita una quantità di pazienti in terapia intensiva pari a circa il 20-25% delle aree destinate a questo scopo, quindi ancora siamo abbastanza prudenti nel dire che il picco ci potrebbe essere nelle prossime settimane.